Buonasera a tutti e benvenuti al mio consueto quindicinale appuntamento. L'argomento di questa sera, sembrerà ostico, ma nasce dall'idea che parlando con delle persone mi chiedevano ma tu che parli tanto di controllo sfruttamento per una società diversa, che tipo di società proponi, che tipo di società vedi? Quindi la risposta mia non è che io vedo un altro tipo di società se non quello che Marx, studiando il sistema di produzione capitalistico, infatti lui studia le contraddizioni di questo sistema e arriva a dare queste indicazioni di questo tipo di società che adesso andremo a leggere, che lui lo scrive poi fra l'altro già nel primo capitolo, il carattere feticistico della merce. E vediamo cosa lui propone, ecco, e anche a cent'anni dalla rivoluzione russa, qualcuno ci parla sempre di rivoluzione, della rivoluzione russa, della presa del potere eccetera, ma non si parla mai quali erano le idee, che tipo di società volevano, le idee che hanno mosso quei milioni di persone, hanno permesso a un gruppo di rivoluzionari di aggregare attorno a sé tutto un popolo che aveva la possibilità di sognare, di vedere una società diversa, una società dove ci fosse l'egualianza fra le persone, non ci fossero più gli sfruttati. Purtroppo poi la rivoluzione fallì, diciamo è un tentativo, come fu la comune di Parigi, di andare verso una società diversa, in armonia con l'ambiente. È chiaro che la contrarivoluzione è stata forte, perché la contrarivoluzione prima di tutto ha distrutto i rivoluzionari, mandandoli nel gulag, fucilandoli e via dicendo. Stalin personificava la contrarivoluzione, per cui dire che i comunisti, adesso la Russia, sono tutte balle che vanno bene per i borghesi, per far sì che la gente non vada a capire che cosa muoveva, le idee che muovevano quelle persone. Allora all'interno io andrò a leggere, leggerò parecchio questa sera, ma non preoccupatevi perché è molto semplice, all'interno del Capitale questi tre tomi molto corposi, ogni tanto Marx facendo le proprie analisi della società che sta criticando, e lui sta analizzando, vede che il movimento storico porta a questo, a quello che lui va a dire, cioè dal comunismo primitivo alla società schiavistica, al feudalesimo, al capitalismo. E il capitalismo attraverso le sue strutture, attraverso quello che sta creando, non può che sfociare nel comunismo. E all'interno di questa analisi, lui ogni tanto ci butta, e chi sa leggere all'interno di questi tomi, bene cosa vuole dire Marx, capisce e ne vede subito la portata forte di queste idee. E dice, iniziamo così, poiché l'economia borghese ama le Robinsonate, cioè ogni tanto gli economisti fanno queste paralleli con Robinson solo nella sua isola. Quindi, poiché l'economia borghese ama le Robinsonate, venga dunque in scena per primo Robinson sulla sua isola. Parco, com'è per natura, egli ha tuttavia da soddisfare i bisogni di vario genere, e quindi deve eseguire lavori utili di genere diverso, foggiarsi utensili, fabbricarsi mobili, addomesticare l'amo, pescare, cacciare, eccetera. Di preghiere simili qui non si parla perché il nostro Robinson vi trova il suo diletto e considera tali attività come svago e ristoro. Ma glado da diversità delle sue funzioni produttive, egli sa che esse non sono, se non forme diverse, di operosità dello stesso Robinson. Dunque, modi diversi di lavoro umano. La necessità stessa lo costringe a ripartire esattamente il suo tempo fra le diverse funzioni da svolgere. Che l'una occupi più spazio e l'altra meno nella sua attività complessiva dipende dalle maggiore o minore difficoltà da superare per conseguire l'effetto utile e voluto e l'esperienza ad insegnarlo. E il nostro Robinson, che ha salvato dal naufragio, orologio, libro mastro, inchiostro e penna, comincia presto, da buon inglese, a tenere contabilità su se stesso. Il suo inventario contiene una nota degli oggetti d'uso, dagli UPS posseduti, delle diverse operazioni richieste per produrli e infine del tempo di lavoro, che date quantità di quei differenti prodotti gli costano in media. Tutte le relazioni fra Robinson e le cose che formano la ricchezza creata dalle sue mani sono così semplici e trasparenti, senza un particolare sforzo mentale per comprenderle. Eppure tutte le determinazioni essenziali del valore vi sono racchiuse e il valore delle merci è il tempo dedicato per la sua creazione. Allora dice, trasferiamoci ora dalla ridente isola di Robinson al cupo medioevo. Qui invece l'uomo indipendente, perché Robinson è indipendente, è solo o è unico in mezzo a un'isola, troviamo tutti i dipendenti, servi della gleba, i latifondisti, vassalli e i signori feudali, laici e preti. La dipendenza personale caratterizza i rapporti sociali della produzione materiale, tanto quanto le sfere di vita erette sulla loro base. Ma appunto perché i rapporti di dipendenza personale costituiscono il fondamento sociale dato, lavori e prodotti non hanno bisogno di assumere una forma fantastica diversa dalla loro realtà. Entrano come servizi e prestazioni in natura nel medesimo meccanismo sociale. La forma naturale del lavoro, la sua particolarità, non la sua generalità, come sulla base della produzione di merci, quindi la base di produzione capitalistica, è qui la sua forma immediatamente sociale. La corvè è misurata mediante il tempo, esattamente come il lavoro produttore di merci, ma ogni servo della gleba sa che quella che spende al servizio del padrone è una quantità data della propria forza lavoro personale. La decima da fornire al prete è più chiara che la benedizione del prete, cioè la decima, uno sa quanto devo dare al prete e quindi quanto tempo dovevo dedicare per pagare la decima al prete. È più chiara della benedizione che lui dà. Comunque, si giudichino le maschere con cui gli uomini si presentano l'uno di fronte all'altro su questo palcoscenico, in ogni caso i rapporti sociali fra le persone nei loro lavori, appaiono quindi come loro rapporti propri, personali e non travestiti da rapporti sociali tra le cose, fra i prodotti del lavoro. E quindi parte da Robinson, produzione individuale, alla società feudale, che è una produzione sociale, ma di tipo dipendente. E qui, per forza di cose, vi devo rimandare a voi che studiate un po' come era sviluppata la società feudale. Per considerare un lavoro comune, quindi lui parte adesso, quindi singolo, sociale, adesso un lavoro comune, cioè immediatamente socializzato, non abbiamo bisogno di risalire alla sua forma naturale spontanea, che sarebbe la forma primitiva comunistica, in cui ci imbattiamo alle soglie della storia di tutti i popoli civili. Un esempio più vicino a noi è offerto dall'industria ruralmente patriarcale di una famiglia contadina, che produce per il proprio fabbisogno, quindi una società chiusa, contadina, produce per il proprio fabbisogno grano, bestiame, filati, tela, capi di vestiario, eccetera. Questi diversi oggetti si presentano di fronte alla famiglia come prodotti diversi del suo lavoro domestico, ma non si rappresentano l'uno di fronte all'altro come merci, cioè nel senso che se uno costruisce il rastrello nella famiglia perché gli serve per l'astrello e l'altro la vanga perché gli serviva la vanga non è che chi ha fatto il rastrello la venda, venda il rastrello a chi ha fatto la vanga e viceversa. No, sono lavori sociali. I lavori di genere differente che creano questi prodotti arattura, allevamento, filatura, tessitura, saturia, eccetera, sono nella loro forma naturale, funzioni sociali. perché funzioni della famiglia che possiede la sua propria naturale divisione del lavoro esattamente come la produzione mercantile. Le differenze di sesso e di età come le condizioni naturali del lavoro mutanti, col mutare delle stagioni, regono la loro ripartizione entro la famiglia e il tempo di lavoro dei singoli familiari. quindi il tempo di lavoro riappare sempre, costantemente, sia nel lavoro individuale di Robinson, sia nel lavoro sociale nel feudalesimo, sia anche in questa situazione particolare che anche in Italia all'inizio del 1900 potevamo avere la stessa situazione in una famiglia patriarcale e contadina. ma qui il dispendio delle forze lavoro individuali misurato dalla durata temporale appare di per sé come determinazione sociale dei lavori stessi perché le forze lavoro individuali operano di per sé soltanto come organi della forza lavoro collettiva famiglia. adesso fa un esempio immaginiamoci invece dice infine per cambiare immaginiamoci infine un'associazione di uomini liberi che lavorino con i mezzi di produzione posseduti in comune e spendano coscientemente le loro molteplici forze lavoro individuali come un'unica forza lavoro sociale. Qui tutte le determinazioni del lavoro di Robiso si ripetono ma socialmente anziché individualmente. Tutti i prodotti di Robiso erano una produzione esclusivamente individuale e quindi immediatamente oggetto d'uso per lui. Il prodotto complessivo dell'associazione quindi di questi uomini liberi è invece un prodotto sociale quindi una parte di esso serve nuovamente come mezzo di produzione rimane sociale. Facciamo un esempio se produco grano una parte di grano deve rimanere sociale per la produzione ancora di grano. Ma un'altra parte viene consumata come mezzo di sussistenza dai membri del sodalizio dunque deve essere ripartita tra di loro. Il modo di questa ripartizione cioè come verrà ripartita questa azione varierà a seconda dei vari generi dell'organismo sociale di produzione di produzione possono essere tra uomini donne anziani o meno ed ha il corrispondente livello di sviluppo storico dei produttori cioè adesso è una esaltazione della produzione e quindi non è diversa la quantità prodotta adesso dalla quantità che si produceva cent'anni fa quindi il modo di ripartizione varierà secondo ripeto varietà a seconda dei vari generi dell'organismo sociale di produzione ed è il corrispondente livello di sviluppo storico dei produttori solo per parallelismo con la produzione di merci supponiamo che la partecipazione di ogni produttore e mezzi di sussistenza sia determinata dal suo tempo di lavoro e qua ritorna sempre il tempo di lavoro il tempo di lavoro recita in queste ipotesi una doppia parte la sua distribuzione secondo un piano sociale regola la giusta proporzione tra le diverse funzioni del lavoro e i diversi bisogni come faceva Robinson solo che lui era individuale adesso lo facciamo sociale d'altra parte il tempo di lavoro serve contemporaneamente da misura della partecipazione individuale del produttore al lavoro comune e perciò anche alla parte individualmente consumabile del prodotto comune le relazioni sociali quindi fra gli uomini i loro lavori e i prodotti del loro lavoro rimangono qui di una semplicità cristallina sia nella produzione che nella distribuzione quindi ecco cosa si intende quando si parla di comunismo un piano sociale di produzione che viene decisa non dai singoli o dal illuminato di turno ma dalla collettività e la fatica del lavoro quindi del tempo di lavoro che serve per riprodurre lo scambio organico tra natura e uomo viene suddiviso fra tutti quindi oggi con i sistemi di produzione che abbiamo la capacità produttiva che c'è il tempo di lavoro per soddisfare i bisogni umani in armonia con l'ambiente per ricordiamoci sempre che la terra è la madre di tutta la ricchezza perché senza la terra e la ricchezza che ci può dare noi come specie non potremmo esistere e quindi la giusta ripartizione del lavoro fra tutti i membri quindi la quantità di lavoro il tempo di lavoro si riduce quasi al lumicino con la produttività che c'è oggi però nella società di produzione capitalistica dove tutti i produttori sono dei produttori individuali e non c'è questo piano organico viene lasciata dalla mano invisibile cosiddetta del mercato a regolare la produzione dove tutti i produttori sono in contrasto uno con l'altro troviamo che queste cose che adesso andrò a cenarvi per avere il profitto per creare quindi scarsità di produzione per molti e benessere per pochi sappiamo che la società oggi è l'uno che ha la ricchezza del 99 dell'altra della popolazione l'esempio è leggendo il 4 aprile di quest'anno su come si lavora nei magazzini di Amazon di Piacenza così come in Germania negli Stati Uniti lo sfruttamento è bestiale infatti se voi andate a leggere l'espresso del 4 aprile del 17 un articolo di Maurizio Di Fazio dove dice che parla che psicofarmaci depressione attacchi di panico la vita da operaio di Amazon per essere veloce l'ossessione per la rapidità il controllo costante sul rispetto dei tempi l'aumento delle malattie la denuncia di una sindacalista sul principale stabilimento europeo del colosso e-commerce prosegue la nostra inchiesta sul lavoro degli italiani eccetera dove viene riportato interessante che per abbattere il costo del lavoro e per aumentare il profitto la gente e i lavoratori lì sono costretti a fare un lavoro super stressante si prendono addirittura dei psicofarmaci per mantenere il ritmo che gli viene dato da Amazon e purtroppo purtroppo ci viene detto che questi sono lavori sei anche fortunato avere un lavoro ma è un altro esempio un altro esempio della fabbrica dei supermercati che la gente viene assunta non dai supermercati ma dalle cooperative dalle cooperative che lavorano da mezzanotte fino all'alba cioè tutta la notte per farci trovare a noi i prodotti sui scaffali del supermercato e questa inchiesta è sul venerdì venerdì di Repubblica del 13 ottobre dove si dice gli schiavi che lavorano da mezzanotte all'alba schiavi che lavorano dalla mezzanotte all'alba spesso stranieri lavorano di notte prendono 5,16 ripeto 5 euro e 16 centesimi all'ora lordi se si lamentano perdono il posto ma grazie ai loro supermercati a loro i supermercati sono aperti H24 bella comodità no? c'è un momento della notte impressionato imprecisato ma non per questo meno inesorabile in cui i supermercati romani si sincronizzano sul fuso di Manila al Carefour di Tor Vergata periferia medionale della metropoli succede a mezzanotte chiudono le porte alla clientela ma la spalancano a una squadra di sei filippini dai 20 ai 30 anni piccoli di statura ma instancabili che sgattaiolano dentro in una maglietta rossa aziendale per fargli sembrare ciò che non sono in quello di Viale Ciamarra aperto H24 ne trovi altri chini sulle carcasse dei bancali che hanno appena liberato dal cellofan a estrarre tonno biscotti tonno e sapone liquido per lavastoviglie da sistemare ognuno sul suo posto ne avvicino uno ne avvicino un paio e via dicendo bene e come è facile capire dov'è lo sfruttamento questi prendono 5 euro e 16 all'ora bene questi 5 euro e 16 all'ora sono esattamente per un turno dice 4 ore ne fa 20 cioè 5 euro e 16 dice la busta paga che ho davanti gli occhi quindi questo è il giornalista che documenta che per un turno di 4 ore ne fanno 20 lordi con i quali si e no si potranno comprare i barattoli e le scatolette che sistemano in un minuto ecco da dove è dato il plus valore il plus valore è dato dal plus lavoro cioè lavoriamo di più di quanto ci viene dato per per la nostra busta paga quindi in un minuto loro si pagano il lavoro di un'ora bene moltiplicatelo per 22 milioni di lavoratori e vedete quante migliaia di ore di lavoro noi regaliamo alla collettività alle persone che non fanno assolutamente niente banchieri finanzieri che fanno niente nel senso che non producono ricchezza intesa non nella società capitalistica alla ricchezza come denaro ma non producono niente materialmente a tutti quei charlatani politicanti e parolai che vivono sul lavoro degli altri ecco e poi sono quelli che ti fanno la job act che ti aumentano i ritmi e in questo aumentano i ritmi e i carichi di lavoro però voglio finire in questo caso dire alcune cose una cosa soprattutto è interessate noi non possiamo rimanere a qui semplicemente a denunciare queste cose che sono un po' all'occhio di tutti e tutti lo possono vedere noi dobbiamo iniziare a fare rete perché altrimenti queste cose se siamo fortunati che non siamo dentro questo giro del super sfruttamento però sono i nostri figli che non trovano lavoro o potremmo ricadere anche noi allora le organizzazioni sindacali oggi per esempio parlo della CGL ha costruito anche lei un organo tramite web si chiama adesso non mi viene a mente ma che vuole raggruppare i lavoratori si chiama NIDIL nuova identità di lavoro una struttura per organizzare i lavoratori in somministrazione a quelli atipici bene ma le organizzazioni sindacali non escono queste a meno non escono dalla logica della compatibilità del mercato compatibilità dell'azienda quindi se l'azienda è in crisi non si può chiedere di più se l'azienda è in difficoltà non si può chiedere perché bisogna essere concorrenziali bisogna correre bisogna essere i primi della classe ma queste organizzazioni sindacali non vedono o non vogliono vedere tutta la ricchezza che viene creata le rimedicazioni devono essere fatte per i bisogni dei lavoratori per la difendere il lavoro non per essere accodati ai bisogni aziendali o nazionali ecco quindi noi dobbiamo iniziare a fare rete io aspetto spero che qualcuno inizi anche a mandare dei messaggi alla radio che è ben lieta di accoglierle e magari raccontiamo anche di queste storie brutte che succedono sul mondo del lavoro ma raccontiamo storie non fine a se stesse ma storie per aggregare grazie a tutti per avermi ascoltato e ci sentiamo fra 15 giorni ciao ciao